Bentornati signori, perché siamo qui in questa schermata qua di opzioni? Perché volevo farvi vedere che la Paradox, come sempre, riesce a rompermi il cazzo. Vedete, questo qua sotto è re di tutte le isole, quello che andiamo a fare. C'è scritto, iniziando e rimanendo, nord germanico e di fede astraoriana, diciamo, completamente controlla tutte le isole dell'Atlantico e del Mediterraneo, senza superare il realm size 80. Io sono Ivar, l'aero meno attivo, ho tre isolette in croce, sono astrao e quant'altro, e ovviamente Cement non mi dice che è possible, perché sarà buggato in qualche cazzo di maniera. Cement Locked, non so per quale stupido motivo, lo stavo leggendo mentre ero sul trono di Porcellana, che c'era questo bug, ma vabbè, passiamo e andiamo avanti. E vediamo, vediamo, se magari si sbagga o si fixano mentre la rana è in corso o qual cazzo che è. Come alcuni di voi sapranno, forse no, non sono una persona molto superstiziosa, però quando succedono delle cose negative, io di solito incolpo una ben specifica divinità di questa cosa. Ora, abbiamo 59 anni, e mi sta venendo un attacco di cuore, e siamo a metà per arrivare a Living Legend. Spero di non lo deve ricolpare, nuovamente, un potere superiore se non riesco nel mio obiettivo. Probabilmente se non mi sentite più e vedete la schermata di morte di Ivar, probabilmente è quello che sto facendo. Ho detto Rise All, ma siamo a velocità 3 però. E quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, cioè lentamente, mettendo assieme, a un certo punto poi arrivano tutti assieme a quanto pare, e andiamo a prenderci un altro pezzettino di isola. Anche qui devo scorporare un pochino quello che ho già, perché 7 di 4 è un po' uno schifo. Il commander, sono io commander, vabbè. Mio figlio, mio nipote è Pensive, il che gli da steward ship è learning, porca merda. Deve essere un guerriero questo qua, vabbè. Vabbè, è finita piuttosto velocemente questa battaglia. E qui siamo a posto, ora. Sbondiamo tutto e dichiariamo guerra all'ultimo. Non è andata a prendere, lo sapevo che sarebbe successo prima o poi. Qualcuno sarebbe arrivato. E ti avrebbe rotto le palle. Reykjavik. È un coglione. Però se lì non mi attacca, è coglione anche lui. Va bene, va bene, va bene. Va bene così. Anche qui dovrebbe essere abbastanza veloce chiuderla fast. No, perché hanno fatto un cazzo di castello. O hanno dei muri o qualcosa del genere. Allora. Devo provarci. Male che vada, ci devo provare perché mi dà prestigio. Buono, mi dà comunque prestigio picchiarsi. Sì. Sì, lo sono fatta. Mi sono picchiato con gli altri e ho aumentato il mio coso. Un altro figlio è morto. Di cos'è morto questo qua? Interno all'injuris. Io ho sempre questa... Ho questa impressione che sono io che alla fine fine causo la morte dei miei figli. Non so perché. Cristo che palle. E io devo splittare il regno. Eh, lo darò a dei... Dei vassalli che non sono miei figli. Tipo... Tipo adesso vediamo quando finisce questo qua. Io ho dei bravi guerrieri. Eh, ma darlo ai guerrieri poi dopo lo piglio in quel posto. C'è qualcuno corte di cui mi fido. Dior champion. C'è qualcuno corte di cui mi fido che non abbia un gran tipo questo. Demand conversion. Se funziona otterrai un territorio, amico mio. Questo qua si è lanciato alla morte sua praticamente. Allora. Vediamo. Si è, si è... Cerchiamo un altro maresciallo intanto. Assegniamo questo. Mi dà il messaggio se quello là si è convertito o meno? O è uno di quelli che mi fa aspettare, che mi fa venire voglia di spararmi in testa? Intanto sposterei quasi quasi la capitale qua. Penso, penso. Ho dovuto dividere un po' i territori di... Tra l'altro mio figlio che tanto se li sarebbe presi comunque. Però ores più due. Oppure... Devo... Do game treat wounded. Che pavolo. Solo 75. Non è neanche un granché. Niente, con le poche truppe che ho. Che dovrebbero comunque salire adesso col tizio. Ho toccinato. Mezzo... Mezzo ortodosso. Mi ha fatto avere una schiava ortodossa io. Dove cazzo sono finito a raidare l'altra volta? 4 e 5 abbiamo qua di dimensioni. Io direi che ci serve qualcos'altro. Serve un... Un veteran almeno. E... Io direi anche che è arrivato il momento di tornare qua. E di reiniziare a raidare. Volevo fare il ducato di questo. Poi sfruttare la capitale ma ancora. Aspetterò. Sbaglio il tuo tasto. Perché sono... Un cretino. Ho sbagliato di nuovo perché sono un cretino. Sto giro non c'ho voglia. Ma perché? Control. Vabbè. Lasciamo perdere. Tutti e due... Posso dirvelo? No. Ovviamente mi prende solo il comando di uno. Tutti e due andiamo a raidare. Dobbiamo scegliere... Allora quanti uomini ho? Circa 3.900. 3.900 non credo basteranno per questi. Siamo pari e noi abbiamo il coso dello sbarco. In Inghilterra 2.900. No in Inghilterra va bene. Andiamo direttamente qui. Andiamo a prenderci... Un po' di soldi. Dobbiamo... Dobbiamo lasciarle così adesso. È l'unica. Dove ho trovato anche un altro buon punto per fare quello che sto facendo. Probabilmente in Italia. Allora. Questo è l'ultimo punto che mettiamo qui. Giusto perché così evitiamo la rotura di palle delle... Sto già saltando. Giriamo in Medicine Focus. Ci danno Small Boost. Ma che dovrebbe essere sufficiente. Possibile. Cannot merge ride outside your territory. Perfetto. Mi fa di un piacere questa cosa. Con quelli abbiamo preso. Qui non oserei più di... Quanti soldi hanno? 85. Vale la pena provare. 85 sono veramente tanti. È più che il papato. È più che il papato. Che tra l'altro è in guerra. Quindi sarebbe... Ma però io voglio bruciare... Non voglio bruciare il papa. Non è quello che stavo per dire. Ah! Tu vuoi... Il bambino mi dà 84. Va bene. Giusto perché così ti rimane... Rimani in debito. Perché sono sicuro che sono tutti i soldi che hai. Eccoci qua. Allora. Se parliamo di Francia... Parliamo di 6.000 uomini. E sono fin troppi. E ci verranno a rompere le palle. Se parliamo di questo... Parliamo di... Poracitudine. 14. 9. 6. 10. Mi piacerebbe ci fosse ancora l'opzione... Di andare a vedere dove... Venezia? Dove stanno i soldi? 32. No, no, no. Quei barbari musulmani lì... Sono quelli che hanno i soldi. Oppure... Quanti uomini ha questo qua? 4.000. Ancora più spararsi nella schiena. Ve lo dico io. E poi non mi pare abbia tutti questi soldi. Questo tizio. Quelli lì là in Spagna sono i bigricconi del gioco. Praticamente. Un po' anche qua. Creta? Come ho messo qua? 5.19. Io la rischio ragazzi. Rischi business. Rischi business. Rischi business. Rischi business. Un cretino business. Andiamo. E proviamo. Ah, ok. Lo vedo male. Lo vedo male. Penso che tirerà su tutti i suoi uomini. Eccolo là. Vediamo. Però noi raidiamo fast. Carica la puttana. Bring me... Figa. 44 monete d'oro e 75. Mi paga di più. Questi li porto comunque a casa. Non mi sa che... Non so. Possiamo imbarcarci? No? Ma abbiamo la super... Vediamo. Solvi è stato ucciso. Ma noi stiamo massacrando. Eh, allora questo cambia un po' le cose. Se non hai più un esercito... Se non hai più un esercito... Questo cambia tutto. È arrivato il momento di... Di andare avanti a raidare. Ma guarda... Accetto perché questo qua mi sta sul cazzo. Niente, è arrivato il momento all'ora di finire questa raidata. Di entrare in guerra. Ho deciso di lasciare indietro 1.200 uomini e di chasare questi soldati qua per una bella battaglia. In modo da farmi un po' di prestigio. Mentre loro vanno avanti a conquistare... Se caso riesco anche a recuperare un po' di provviste magari. Ho alzato anche la musica ambientale quant'altro. Spero sentiate a volte le nuove tracce che piazza sul gioco random. Se avessi finito invece di fare il pirlone... Fratellino mio... Fratellino mio... Avremmo vinto sta guerra. Gliotter sta studiando la guerra. Bravissimo figliolo mio. Lo so che tu volevi fare qualcos'altro ma vai per il combattimento. E nasce un altro maschio. Un altro ancora in famiglia. Zero femmine. Non possiamo chiamare nessuno praticamente. Mi servono guerrieri da fuori. E sta cosa qua me lo sta impedendo. Oh li stanno accesando. Di nuovo. Emo a vedere cosa succede in questo posto qua. No fermati fermati. Devo parlarti o spiegare due cose. Perfetto. Quanti punti ci danno di... Cioè... Mi stai dicendo che... Ogni punto di fama che il personaggio incrementa? Prof. Ma puttana Eva quanto cazzo pagano le battaglie? No fermo fratello. Pagavano tantissimo queste battaglie. Facciamo una runestone. Forse ci siamo signori. No no non devo dirlo. Non è vero. Non è vero come roba. Facciamola. Dove la facciamo? Per aver combattuto contro Carl. Così perdo anche stress. E postendola mettiamo sull'isola di Man. Questa runa è dedicata... Dove piazzarla? Un po' corsa. Vediamo. Man. Andiamo a vedere qua su Man. Cosa che dice? Il combattimento è stato... Così... In una maniera imbarazzante e troppo facile. Ovviamente ognuna ha del flavor text personalizzato che ricorda quello che era. Tipo questo qua... Anche questo qua era il combattimento imbarazzante. Noi facciamo le runeson per niente alla fin fine. Però cosa vi devo dire? E' quello che è. Che palle dovrei... Vediamo. Sono lì dal morire. Ci proviamo dai. Non è che si fa male a provarci. Lo vedete vero? Lo vedete? Che siamo a 7.966. Io se adesso muoio tiro un porco allucinante mutandomi ma lo tiro perché... Questo qua deve essere bastardi eh. Non è che c'è tanto da fare. Io vorrei dare qualcuno qua vicino. Prendo la sua roba e me la porto a casa. E la roba... E diciamo che... La faccenda la chiudiamo così. Va bene? La faccenda la chiudiamo in questa maniera qua. Non voglio fare disband. Ci portiamo a casa qualcosa. Non tanto. Qualcosa. Manca... Quanto manca? Mi sento che bisogna anche aspettare che il menu... Manca 30 tipo. Un po' meno di 30. Adesso muore. Muore. Sì sì muore perché sono stronzo io lo so. Ok sono Living Legend. Signori... Signori oggi nasce... Mentre noi siamo ancora in viaggio arriveranno notizie da casa. Il Elevate the Kingdom of Man. And the Isle. Quindi... Too infamy and immortality. Verso l'infamia e l'immortalità. Questo ci dà un sacco di bella roba. Il regno dei pirati nasce oggi signori. Per anni. Ho rubato e solcato i mari dal mondo per distruggere, razziare, raidare, stuprare e altre cose. Ho rubato più soldi che tutti i re possono mai vedere. E il mio nome è maledetto dal mare irlandese fino a Catai. Che non so dove cazzo sia. Sono senza ombra di dubbio il più infame uomo vivente. Maledizione dei mari. E dov'è che ho buttato... Ah sì io ho... Per tutti i soldi li ho buttati nel cesso sull'isola di Man per creare una fortificazione degna di questo nome. E quant'altro. Le persone in tutto il mondo... The Crimey? Mi... Mi danno epiteti? Come il più cattivo pirata di cui avrebbero mai sentito parlare. Ma hanno sentito parlare di me. E qui ci dà queste due cose qua. Almeno il mio sogno è Achieved. O I am the lord... Sono il signore del sangue e dell'oro. E mi daranno il nickname Il Grande e Terribile. Oppure questo. Oppure Dici Stress. In meno. Cioè davvero? Una scelta è un nickname fighissimo come Il Grande e il Terribile. O meno Dieci Stress. Beh direi Dieci Stress è la scelta nostra. No non è vero. E non pensavo fosse possibile. Veramente. Non pensavo fosse possibile. E siamo un regno ora. E siamo feudali ora. E possiamo costruire un quantitativo di roba? Ti prego. Cliccami su Man. Guardate quanti slot ha! Iniziano a partire i soldi. Io ve lo dico qua. Riempirò sto cosa qua di tutto. Però devo prima aspettare di avere l'innovazione corretta. Perché se no non posso creare la costruzione del Ducato. Ma posso fare le altre. Quanti soldi butterò nel cesso adesso. Ah aspetta però. Tutte le mie truppe ora le vado a pagare con... Con l'oro. P10. Devo... E tra l'altro noi abbiamo dei buff svariati. Tipo building, construction, meno 200%. Ci vogliono... Due mesi per costruire questa roba qua? Cioè fatemi vedere quanto ci vuole. La barra. Ho fatto l'achievement. Vabbè no quella lì mi interessa. Guardate la barra di costruzione. Must costruire roba sull'isola di Man signori. Torniamo a casa. Ah e la nostra dinastia. Army Loot Capacity più 50%. Defender Vantage più 5. Max Heavy Infantry. Vai. Vai. E adesso si va giù proprio. Gold from Ransom più 50%. Vai. E siamo già arrivati. Solo con Ivar siamo già arrivati a questo punto Cristo. Noi siamo bravissimi a fotterci le persone dai posti. Madonna mia. Magari Ivar non... Oh i soldati! Perché mi è arrivato il reggimento di 7500 unità speciali. Guardatelo! Ioms Viking Pirates. Sì alcuni bondi. Ehi dei Varanjan veterans. Meguioni. Che figata sta decisione qua. E qui ha già quasi costruito scommetto. Quasi finito signori. L'accento non credo serva. Quindi siamo Man and the Isles. Anche qua in alto. Quindi io adesso la mia successione è al sicuro. Perché lui si prende il Kingdom of Man. Yardom of Mawne. E il Heraldom of Mawne. Che alla fin fine è solo quell'isoletta qua. Ma non me ne frega neanche niente. Per esempio c'è il fatto che questa qua con tutti gli slot che ha. Uno può costruire tutto. Ovviamente qualcuno dovrà morire per ciò. Farò qualche guerra. Ritirerò qualche cosa in futuro. La maggior parte sono bambini. Sono mio figlio. Figlio. Perché i miei figli sono così? Io non ho tutti questi bambini qua piccolini. Oppure sì. Oppure le mie concubine hanno dato vita a una progenie. Che mi ero dimenticato di avere. In effetti. Sono troppo contento però per sta cosa ragazzi. Non ci credo. Cioè davvero. Grandissimi figli. Abbiamo già finito di costruire. Si va. Si va. Con tutto il resto. Posso costruire il cazzo che voglio. Vai vai vai. Tre mesi. Quasi quasi. Per questi tre mesi gli piazzo anche il tizio qua. Costruisci Cristo. E tu invece che riprendere persone sistema il controllo qui sopra. Tu 49 anni per spreddare la cultura. Là non ce la farai mai. Prova a convertire questo 39 anni. Non è comunque positiva come cosa. Per ora andiamo avanti così. Va cacano e non ci credo. Bellissimo. È ora di partire per Roma. L'ultimo viaggio di Ivar. Forse è l'ultimo viaggio di Ivar. Chi tiriamo su qua. Non voglio tirar su proprio. Non voglio tirar su i 7500 uomini perché sono troppi. E gli altri sono già tirati su probabilmente. Ma 3600 per il papa sono sufficienti. Non è che. E poi la figlia le sta prendendo il papa. No. Questo non è buono per niente. Contro chi le sta prendendo il papa. Ok. Ho una mezza idea. Signori aiuteremo il papato. Signori sta diventando una dunk timeline che elevati proprio. Prendiamo e partiamo. Andiamo a razziare Palermo. E una volta che avremo razziato Palermo saliremo e andremo al papato. Così diventiamo nemici di questo tizio qua. Aiutiamo il papa. E poi saccheggiamo anche il papa. Perché puttana Eva sì. Questa mi paga 75 per riavere la tizia. Tiettela. Vai. Spendo un quantitativo di soldi impressionante. La maggior parte per Arised Armies. Quindi quei 7500 uomini posso anche già dimenticarmi di alzarli. A meno che non serva. Oh. Vedete sulla mappa che si fa il trattere. Bello. Forse avevo già detto. Non è niente che bello. Tu sai dove stanno andando le cose. Anzi sto spendendo un livello ignobile di soldi. Recrutiamo a corte. Oh. Altri guerrieri arrivano adesso che sono iniettato un re. Finalmente. Peccato che avrei dovuto tirarli su prima. Adesso questo prestigio non mi serve un cazzo. Forse avrei dovuto. Ma forse serve comunque. Sono feudale ma le cose me le fai comunque costruire col prestigio. Paio di palle. Perfetto. Ho un sacco di prestigio che non serve a niente. Quindi deve andarvi di culo ragazzi per fare una roba del genere che ho fatto io. Deve andarvi bene che il tizio che ha tipo Ivar gli è andata di culo perché ha trovato una roba che gli bustava la vitalità di un bel po'. Sennò quel cazzo che ce l'avrebbe fatta. Sì prenditi ste type qua. Perché io tra l'altro li sto... Ah giusto vediamo vediamo dovrei riuscire a catturare più gente adesso. Perché se non mi pare che noi stiamo catturando molto. A 4 e 9 non mi interessa. Kingdom of Benevento frega veramente poco. Quanti siete tanto non avete 3.000 uomini. No. Mi fa piacere di andare in mare. Grazie. Dobbiamo liberare il papato però prima facciamoci tutta l'Italia. L'ultima raidata. Ah interrompo un attimo il coso e taglio per quando siamo al momento giusto perché non si allunga troppo. Ok so che dovevo... C'è ancora raid or trade. L'altra volta non mi pare ci fosse la quarta opzione però forse sì. Insomma i tizi ci propongono di magari fare scambi invece che di raidare. E l'ultima opzione è che tipo di malato... Insomma di un tizio che non ha fegato feudale codardo pensa ai soldi senza razziare. E la differenza con quello sopra perché tutti e due continuano a fare il pillage. La differenza di quello sopra e quest'opzione qua è che tu continui a derubare Salerno. E rifiuti di pensare mai più agli scambi per il resto della tua vita. Fan culo papi. Non voglio neanche più saperne di stazione qua degli scambi. Bruciate tutto e distruggete. Andiamo avanti. Si sta andando a creare questa situazione dove il papa è la sola montagna che difende. E noi siamo qua. E... Cioè non è successo niente. Proprio abbiamo solo dilapidato le sue robe e fine. Neanche col talento in più siamo riusciti a prenderci il papa. Immagino che... Tutti i miei piani vadano a sfumare così quindi... Gatto. Ma... Visto che lui e le truppe là in alto ferme dal papa e si stanno guardando... Visto che aiutare è il papa che tanto... Però a me dà fastidio. Io vorrei aiutare questo papa. Oh... Arn Bjorn è arrivato l'età. Però questo è per un'altra puntata signori. Questo qua è tutto per un'altra puntata. Oggi abbiamo finito. Abbiamo fallito col papato ma ce l'abbiamo fatta col regno delle isole. Che finalmente è operativo e attivo sotto lo sguardo vigile di Aivar. Il grande e il terribile. Non più il senzosso. Vi rimando alla prossima puntata e quindi questo fine settimana signori. Attendete con ansia perché è arrivato il momento quindi finito il nostro primo piano di partire alla conquista delle isole del mondo.